L'Elisir Arabesh, dedicato alle comunità Arbresh, racchiude in sé i segreti di preziose erbe e spezie orientali. Gusto unico e inconfondibile, si può gustare liscio in fantasiosi cocktail. Eccezionale correttivo del caffè, sublime tocco in più per dolci, frutta e gelati affogati. Elisir Arabesh dei fratelli Caffo, un sorso di fascino orientale.